In Cile la terra è tornata a tremare. Ha scatenato il panico senza provocare vittime il terremoto di magnitudo 6.9 con epicentro ad un centinaio di chilometri dalla costa ad ovest della cittadina turistica di Tirua. Escludono il rischio tsunami gli esperti dell'Istituto Americano di Geofisica che hanno rilevato due scosse di intensità media a due ore di distanza. La prima ha sorpreso gli abitanti intorno alle 16, ora locale. Sono atterrita perché sono arrivata proprio mentre chi era all'interno ha cominciato a urlare, tremava tutto, siamo usciti correndo tra le auto che si muovevano e non sapevamo cosa fare, siamo veramente spaventati. Gli osservatori riconducono la causa del sisma alle fisiologiche vibrazioni della crosta terrestre in questa zona del paese. Il Cile è un paese che nella sua storia ha dovuto far fronte a tutte le avversità, ha detto il presidente cileno. Eruzioni vulcaniche, inondazioni, tsunami, dobbiamo essere preparati e penso che la reazione a questo terremoto di media intensità sia stata quella giusta. Ad amplificare la paura degli abitanti il ricordo del sisma che nel febbraio dello scorso anno ha colpito queste zone provocando più di 500 morti e distruggendo interi centri abitati con danni per oltre 20 miliardi di euro.